Nessuna irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di lavorazione che TCA e Chimet hanno inviato all'impianto Le Rose di Bucine, quello al centro dell'inchiesta Cheu. Il TAR della Toscana ha infatti accolto i ricorsi presentati dalle due aziende del recupero metalli preziosi di Arezzo, esprimendosi contro il provvedimento che le indicava tra i responsabili della contaminazione derivante dall'impianto Valdarnese Le Rose e le obbligava alla bonifica del sito. La sentenza adesso così cambia tutto, le due aziende non dovranno pagare quanto previsto per la bonifica del sito, ovvero 10 milioni di euro. Alle due aziende retine e inquirenti contestavano la classificazione, da pericoloso a non pericoloso assoluto, di un particolare tipo di rifiuto conferito nell'impianto di Bucine, ovvero la scoria vetrosa, sottoprodotto della fusione di metalli. Secondo il TAR invece la comunicazione sarebbe stata corretta. Il pronunciamento arriva alla vigilia dell'udienza preliminare, in programma per il prossimo 12 aprile. La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone e 6 società, inquinamento ambientale, traffico di rifiuti pericolosi, associazione a delinquere aggravata dall'agevolazione mafiosa, alcuni dei reati contestati. Il comune di Bucine e il movimento dei consumatori hanno già annunciato che si costituiranno parte civile.